buongiorno un giorno posso chiedere a te si sia io da voi ho già comprato una cassetta contenta del love nella versione di gloria jones volevo sapere se avevate anche quella dei soft sell e poi dei romantiche che mi consigli allora per quanto riguarda la prima cosa che hai detto non ci sono problemi zero proprio mentre invece per quanto riguarda l'altra cosa la seconda avalon roxy music che consiglio è avalon è troppo banale e poi ho bisogno del consiglio di un esperto allora true spandau ballet oddio ora mi direi rio dei duranduran vienna ultravox sicuro non duchiri le one to heart made the culture club veramente stavo per dire forever young alphavil tu sai allora va bene te la sei cercata mad world tears for fears non la conosco non la conosce perché a metà strada tra la new romantic e la new wave quindi se ti piace la new wave ti piacerà sicuramente qualche brano della new romantic no mi sono confuso anzi il contrario fa il contrario eh guarda se ti interessa posso metterti qualche canzone in coda la cassetta così l'ascolti ok va bene però se non mi piace torno qui me la rifai va bene maronna santi ma che c'è questa cazzo chiamata che oggi teniamo una giornata inferna